Non sai che disegnare e balli al buio? E allora, ya, un po' di blu e oggi inventiamo dei fiorellini. Molto semplici, diretti, insomma, sono quelli. Poi li andiamo anche un attimino a sviolettare. Poi è neologismo. Gli mettiamo anche due bacchi, tenete conto che c'è un po' di vento. Infatti i petali si fanno loro voletto. Concludiamo con un bel lineart, molto libero e fresco. Qua ovviamente una regola non c'è, fate un po' come vi pare. E di base avete inventato un'illustrazione. Quindi sentitevi un fiorellino prezioso.